Ciao ragazzi e bentornati sul canale dove fanno i video a caso perchè non sanno cosa fare della loro vita e delle serie che potrebbero fare sul canale quindi ogni giro cambiano il gioco perchè si, no non farò una serie di Xenoverse perchè è troppo lunga e poi comunque è vecchio sto gioco, non mi interessa però hanno annunciato FighterZ e quindi io mi sono detto ok facciamo un video su Xenoverse e quindi sono qui però vi devo dire una cosa mi avete criticato tantissimo su Days of Symphonia perchè non mi è piaciuto perchè ho detto che è la trama, che palle, bla 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 però forse non avete capito il concetto che quel video doveva essere una roba veloce e quindi la trama mi ha bloccato un sacco non avevo voglia e quindi ho detto che palle la trama secondo dovete anche capire che se una cosa non vi piace a qualcuno mentre voi la adorate e questo qui vi dice no guarda bello quanto vuoi a me ha fatto schifo non significa che vi stiano insultando non fate come le community di Dark Souls vi prego poi comunque sono andato avanti per un'oretta e mezza circa e non mi ha preso per un cazzo neanche la storia quindi mi dispiace ma stronzate a parte basta essere tristi perchè oggi faremo cose molto divertenti perchè non sarò solo ma sarà con me una persona che chi ci segue da tanto tempo conoscerà sicuramente e tra tre due e uno ti salutiamo il nostro doc ciao negro ok si l'abbiamo resuscitato no non è vero questo è il mio personaggio sono bello vero sono una banana però va bene io non ce l'hai perchè fa schifo aspetta un attimo ma no oh no ci è duoco posso mettermi la parrucca di sono proprio bello ma sei mister satana almeno no e allora fai schifo scu sono un membro della razza di freezer con i capelli di un super saia blu ah 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 è come Salvini con la pelle nera insomma ha messo tutto al massimo mi sembra vuole farlo eh vabbè poverino io comunque non mi ricordo più di niente nei miei equip sono qua con cose messe a caso perchè sì quindi mi fiderò del me del passato ma più che altro non riesco a capire perchè abbiamo messo tutto al massimo ma la grafica si vede tipo con le linee tutte brutte perchè questo gioco è ottimizzato benissimo beh in realtà sì anche perchè noi abbiamo un computer che effettivamente lo dovrebbe fare girare bene va bene dovrebbe facciamo facciamo tu sei già dentro? sì parallel questo tra l'altro c'è Paco che ogni volta che registro sta sempre giocando a Paladins ciao Paco bello c'è una selezione di personaggi fantastici come gli sdiari di freezer no aspetta qua c'è troppo casino mi ricordo più come si giochi ho ricevuto un'abilità che strano? oh no un alieno cazzo gli alieni e sono salito di livello e mi ha dato gli abiti degli scarponi colpo di energia e immagine residuo grazie gioco grazie noi aspettiamo gli input aspettiamo un attimo che qua veramente è un bordello e non si capisce un cazzo arrivo aspetta che devo ricreare la stanza come si fa a fare gli squat ai personaggi? tonno, cino, saiano, gooo, cooo te l'ho tolto dal raggio aspetta allora mi torno a spammare le ulti ma aspetta un attimo ci sono le sfere da prendere ah sì vabbè ma a me basta picchiare guldo sono contento eh aspetta devo picchiare qualcuno prima perché non ho la carica che sono povero dica come si apre? ah ma ce l'hanno loro ecco perché chi ce l'ha? ma soprattutto dov'è? la banana aspetta che arrivo con molta calma perché lo scatto è veloce ma veramente io non trovo non trovo un cazzo oh no è arrivata la gente è arrivata la gente che è venuta a prendermi sì tanto ah no eccone una ho trovato la sfera bravo scusi signor signor cavaliere mitico ok il gioco mi sta spasticando se ne vada a fare in culo per un attimo arrivederci non posso diventare la banana quella vera ecco chi ce l'ha dov'è? ce ne ha due sto stronzo come si scatta in questo gioco? picchia lui che io prendo le palle qui salve arrivederci arrivederci abbiamo vinciuto incredibile chi l'avrebbe mai sì con qualche difficoltà qualche? allora adesso però voglio cambiare perché mi sono rotto le palle io prenderò uno dei personaggi ovviamente superiori perché sono un plebeo dopo diventa super saianti abbiamo sbagliato qualcosa adesso 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 ah no forse l'ha fatto fuori non mi ricordo più eh no secondo me l'ho fatto dovrebbe farlo adesso dopo il dialogo no no vai mister satana no doc you cannot die no ti ethan come si usava gli oggetti ah ecco hai rotto un po' il cazzo dove è finito? non può morire no es ah no no abbastanza carico ma non è vero ma quando? non lo voglio sapere siamo qualcuno di non scars la stanza non è disponibile perché vabbè io intanto mi faccio dipingere con una delle sue ragazze francesi ma come cazzo corre giaco? è bellissimo egoimistici sto menando guldo eh ma non ti vedo ah ma sei nel portale eh sì oh non mi aspetti no non ti aspetto sono uno strut Kamehameha Big Bang si è fermato addosso a un semaforo che bello Dragon Ball allora no davvero non mi ricordo come si facciano le combo su sto gioco ah perché si fanno le combo su sto gioco? dove sei? che bello è come vola sono Gesù ehi super Gesù Tom adesso vedi che ricapita di nuovo il bug che non ti sblocca il oddio che bei ricordi ma cosa sei diventato un terrorista? ostio pensi che questa sia Londra? questa è Londra adesso ci stirano giù il video perché ci tirano giù il canale perché siamo razzini diretto proprio arriva aiuto che bello spavano ero finito in una mousse tutta blu doc cosa sta succedendo? non lo colpisco non lo colpisco il fatto è che non capisco cosa stia cosa 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 boh è lì che spammare ulti all'infinito perché questo sul tuo schermo però ah perché sono separati bene the sync effettivamente ti vede un po' problematico no il problema si vedrà cosa stai facendo geniu datti un contegno oh ecco forse ci siamo sto spammando la ulti bene è quello che eh infatti ora l'ho vista anch'io l'ho vista anch'io perfetto ok adesso posso ora ora ci vedo adesso posso combattere e invece eh abbiamo vinto ah ma ci sono pure le sfere da trovare vero cazzo beh questa missione che odio l'hai presa? quanto moriremo si l'hai presa ha salve ciao brolo è proprio bello quell'uomo me lo sposerei tutto hai trovato una sfere del drago oh è Videl eh beh sicuramente Videl sarà d'aiuto dove sei finito adesso? niente sono per terra qua grazie grazie a Freezer hai visto? Freezer non è così cattivo come pensano tutti ah scappa corri scappa c'è il broccoli guarda sono proprio d'aiuto in questa missione è finita ah 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 ok ehi ho fatto tutto io e ho fatto tutto io io l'avevo scelta per morirci male ma vabbè vabbè dai io direi che per oggi basta no no non mi metto a piangere così Leviathan ti ha sfidato accetti lo scontro ancora lui ha sfidato pure me aspetta facciamo che no e quindi per oggi direi basta salutiamo anche Leviathan che ci vuole tanto bene io saluto anche Sindra Mana che voleva picchiarmi e adesso mi fa voglio farlo in shot privata e vabbè salve Leviathan mi saluti come si chiamava darts darts si chiamava vabbè arrivederci grazie ciao 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 ohimai sei uscito dal tuo manga il duca del mondo che nessuno conosce perché siete stronzi però vabbè ok che cazzo parli mio nebro tu non hai mai visto due come noi eh? eh? no fai schifo che mamma non hai mai visto come noi che cazzo parli che cazzo parli non hai visto come noi Grazie a tutti.